Grazie, grazie a professor Rinaldi. Ultimamente devo dire che venite invitati un pochino più spesso in televisione, però penso che quando il professor Bagnai partì, partì in un deserto, immagino guardato dai colleghi come un essere strano se non un collaborazionista del nemico, adesso abbiamo capito chi era il nemico, però ripeto, adesso lo ascolto volentieri e vi consiglio il libro all'uscita, non perché abbia bisogno lui di vendere due copie, ma perché più informazioni abbiamo noi a disposizione, più smontiamo poveretti. Agli altri rimane, non hanno argomenti, e non si può, è così, è ormai, e ma facciamo la fine dell'Argentina, e ma la svalutazione, tre barzellette che leggendo cinque pagine del libro si smontano, però mi vergogno non solo per la classe politica, che secondo me non era ignorante, ma era venduta già ai tempi, ma anche per la classe, ma anche e soprattutto mi permetto di dire, per alcune altre caste, per quei professoroni universitari, per quei giornalisti, per quei commentatori economici, che o non avevano capito, e se non avevano capito dovrebbero andare a fare un altro lavoro, o se avevano capito e stavano zitti, peggio ancora dovrebbero essere assolutamente inseguiti. Quindi io sono contento che non tutti, nelle università e sui blog, dormissero. E quindi intanto, mentre andiamo a verificare i virus tedeschi nel personal computer del professor Bagnai, c'è un hackeraggio del nemico, però, ripeto, io non penso che a certi livelli ci sia ignoranza, io penso che a certi livelli ci sia compravendita di uomini di governo, molto più semplicemente, e questo mi sa che abbiamo visto. Microfono Alberto Bagnai e gli chiedo anche, come mia curiosità, perché ha cominciato, io immagino che abbia incontrato tanti politici, chi gliel'ha fatto fare, e cosa gli è successo quella mattina in cui ha detto, oi boh, cominciamo la crociata, una crociata scomoda e impegnativa, penso. Grazie. Grazie Matteo. Grazie a tutti voi. Avete di fronte a voi delle persone molto diverse. Antonio è uno specialista nell'arte di estrarre l'applauso da chi la pensa come lui. Io invece ritengo che in questa fase storica sia molto importante portare argomenti a chi non la pensa come noi. E credo che per questo sia, soprattutto per un partito come il vostro, che nei mezzi di informazione viene regolarmente messo in caricatura con caschi vichinghi, insomma io mi aspettavo di trovarmi di fronte dei celti e invece mi trovo di fronte degli italiani, credo che sia particolarmente importante adottare dei toni che consentano di rendere il messaggio accessibile e che consentano, che non consentano, non toccate il mio computer, ci penso io da qua. No? Ecco, buoni, fermi. C'è, non c'è, c'è, non c'è, ci penso io. E che non consentano di distorcere il messaggio. La risposta alla domanda di Matteo, perché ho cominciato, credo che sia perfettamente identica a quella che potrebbe dare Claudio. Io, a dire il vero, nel 1997 avevo scritto un piccolo lavoro nel quale argomentavo che i costi dell'Unione Europea non sarebbero stati così grandi come ci venivano proposti, ma semplicemente perché nella letteratura scientifica questo già era stato dimostrato nel 92. Cioè, quando è stato firmato il trattato di Maastricht, immediatamente gli economisti lo hanno valutato e hanno capito che era una fregatura. Lo dico, nulla di quello che trovate nel mio libro in termini di economia è particolarmente originale. Il mio libro finisce dimostrandovi che nel 1957, per un economista che fosse un economista, e infatti avrebbe poi preso il Nobel nel 77, era assolutamente chiaro che lo sviluppo armonico, pacifico del nostro continente necessitava di cambi flessibili. Prima ancora che ci fosse la moneta unica, vi ricordo che nel 57 si era in un sistema di cambi fissi mondiali, ma un economista britannico aveva già capito che l'Europa, per la diversità fra le sue economie, avrebbe avuto bisogno di maggiore flessibilità. E i motivi sono quelli che ha spiegato molto bene Claudio e che ha spiegato molto bene Antonio. Quindi dal punto di vista economico non c'è nulla di nuovo. Però nel 2010, quando abbiamo cominciato a vedere io, Claudio, anche Antonio, che aveva scritto anche un libro, come veniva gestita la crisi della Grecia, è scattato qualche cosa. In particolare abbiamo capito che quello che era in atto era assimilabile in qualche modo a una sorta di aggressione, di aggressione economico-politica nei riguardi dei paesi del sud. Io scrissi un articolo che si chiamava I salvataggi che non ci salveranno, quando Monti venne nominato, e lo trovate ancora nel mio blog, alla data del 16 novembre, scusatemi, l'ossobuco mi rende un pochino le sinapsi così un po' unte. No, non ho bevuto. Interviene sull'ordine dei lavori l'onorevole Rinaldi, grazie. Poi dopo segnatele queste che poi me le dice alla fine. Allora, scrissi questo articolo per dire che Monti avrebbe rovinato l'Italia. Lo mandai alla voce.info, con cui ogni tanto collaboravo, e loro mi dissero che a causa della crisi stavano arrivando tanti articoli e quindi purtroppissimo non avrebbero pubblicato il mio. Io ci pensai una settimana e poi dissi, sapete che c'è? Io volevo solo lasciare una testimonianza. Allora adesso apro un blog e pubblico questo articolo. Due anni dopo, io sono arrivato secondo al blog fest di Rimini dopo un'altra start-up che si chiama Il Sole 24 Ore, che credo dietro una organizzazione con pochissimi capitali che credo si chiami Confindustria. Sì, ecco, io secondo e la voce.info sesto, perché la menzogna non paga, o perlomeno la non verità non paga. Quindi sono vicino a Matteo quando dice che è finito il momento delle mediazioni. Credo che sia così. Ciò nonostante il fatto che sia finito il momento delle mediazioni e il fatto che, come io ho anticipato a tanti politici che mi sono venuti a sentire, questa storiella del sì però dobbiamo dare il messaggio propositivo, sì però dobbiamo dare un ultimatum, dire cara Germania, tu adesso devi fare così perché se no poi noi ti minacciamo e allora dopo usciamo e poi... E' una grande scemenza. Una scemenza quando è detta dagli insider che non nomino. E' una scemenzissima quando è detta dagli outsider che altresì non nomino, ma se voi andate nel mio blog e digitate nella funzione cerca la tabellina dello zero, troverete un post nel quale io allegramente dileggio quei politici che essendo fuori dal Parlamento e quindi contando lo 0%, non hanno minimamente avuto il coraggio di assumere una posizione precisa. Perché capisco che se uno è dentro dice, beh ma io posso perdere l'80% dei voti, quindi i miei voti si moltiplicano per 0,8, certo è brutto, ma se invece tu per il 20%, ma se invece tu hai zero, puoi solo guadagnare dal fatto di dire la verità e nessuno ha avuto questo coraggio. Ciò nonostante volevo fare un paio di precisazioni. La prima precisazione è che non amo particolarmente parlare di processi, perché non credo che sia il caso. Perché temo che la situazione nella quale viviamo è una situazione che oggettivamente crea molta violenza e infatti la gente muore. Quindi dobbiamo essere tutti molto prudenti nell'esprimerci. Ma questa non è ovviamente una critica, questa è una mia opinione. Credo che più che la Norimberga noi assisteremo a un 8 settembre. Il 9 settembre nessuno sarà stato eurista. E vi ricordo che noi abbiamo un'Italia da ricostruire per la seconda volta e vi ricordo che la prima volta l'abbiamo ricostruita fatalmente anche coi fascisti. Perché se erano la maggioranza, cosa è successo da un giorno all'altro? Quindi questa Italia la dovremmo ricostruire con gli euristi. Rassegnatevi, fa schifo anche a me, ma è un dato di fatto. Da questo non si esce. Per cui, come dire, se noi facessimo un vero processo, se io dovessi, e certe volte avrei voluto farlo, massacrare di fronte a me l'ottuso di turno che continuava a dirmi che noi ci meritavamo, quello che ci stava succedendo, eccetera, eccetera. Se io avessi avuto licenza di uccidere come 007, forse avremmo risolto la crisi economica, ma saremmo in una profondissima crisi demografica. In Italia saremmo rimasti io e lui, e anche se qualche politico di sinistra ci desse il permesso di accoppiarci, la nostra unione sarebbe sterile. Quindi bisogna capirla questa cosa. Quindi, per favore, poi Matteo, che mi sta simpaticissimo, anche perché l'ho incontrato la prima volta in televisione, in una trasmissione nella quale io difendendo i diritti civili spiegavo però a una gentile giornalista de sinistra che anche le nozze gay non si possono fare coi fichi secchi, cioè che il suo partito ci stava svendendo la nostra economia, i nostri diritti economici, i nostri diritti sociali, in cambio di diritti civili puramente cosmetici, come la possibilità di accoppiarsi con un essere vivente a 3, 4, 7, 8 zampe, in cambio però di essere disoccupati. Allora io sono per il matrimonio fra due gay che hanno un lavoro, quindi sono su una terza posizione. Questo magari a Matteo non piacerà e adesso si preoccuperà anche per avermi accompagnato in macchina qui, però non gli ho messo le mani addosso anche perché, diciamo così, lei è una guida molto sportiva, molto romana e mi sono divertito ad apprezzare come si può applicare alla, diciamo, topografia milanese una guida un po' creativa. Un'altra cosa che preferirei non sentir dire, anche se è vera, anche se è vera, però preferirei non sentirla dire, anche se strappa l'applauso, però preferirei non sentirla dire, anche se sono d'accordo, preferirei non sentir dire che Letta è un pupazzo, perché? Allora, intanto io sono fiorentino e lui è pisano, quindi a me basta questo, se proprio vogliamo... Ma il punto è un pochino più sottile, vedete? Il problema non sono le persone, il problema sono le istituzioni, cioè noi da 30 anni con il voto contrario dei comunisti, dichiarazione di Napolitano che adesso fa il difensore di questo regime, con l'astenzione molto opportunistica dei socialisti, relazione di voto di Cicchitto che sta ancora in giro, con la dichiarazione di voto positiva dei democristiani, Filippo Maria Pandolfi che incontrai al convegno nel quale appunto dissi che loro sarebbe stata una sola 20 anni dopo, siamo entrati in un percorso il cui scopo era sostanzialmente esautorare la politica, perché? Per tanti motivi, secondo me, non ha del tutto torto, né Matteo, né Antonio, Claudio non è entrato in argomento, nel dire che c'è stata una cattura dei politici italiani da parte di interessi esteri. Poi ovviamente ognuno usa il linguaggio che vuole e va bene così, sono d'accordo. Però il discorso è un pochino più ampio ed è anche un discorso culturale. Ci hanno convinto che l'Italia avesse bisogno di essere moralizzata, perché aveva una classe politica particolarmente corrotta, che aveva bisogno di regole esterne. Noi ci abbiamo creduto, forse in parte era vero, forse in parte no, ma adesso dobbiamo registrare il fallimento di questo sistema. Le regole esterne non ci hanno moralizzato, anzi sta andando sempre peggio e in più va male anche l'economia. Quindi, come dire, il problema... Io mi indignerei molto di più, civilmente e sempre nell'ambito di un processo democratico, per le parole di Draghi, che prima delle elezioni ci dice non importa qual è il risultato, tanto avete il pilota automatico, piuttosto che per il fatto che Letta, a bordo di questo aereo con il pilota automatico, atterri dove questo aereo porta, che è Berlino. Questa è una conseguenza, ci siamo? Cioè a me piace risalire alle cause, le conseguenze sono più visibili. Insomma, se tu hai la varicella, ti gratti ovviamente le bolle, no? E non ti gratti il virus perché non lo vedi. In questo caso Letta tira fuori l'applauso, ma il problema è che sono le istituzioni che vanno capite, va capito perché ce le siamo date e perché ce le siamo fatte dare. Ultima cosa, la verità è, diciamo, magari non è una, le menzogne sono sicuramente molte di più, va detto che contro il Fiscal Compact ha votato anche l'IDV, che è un altro partito dello 0% adesso, che è venuto prima a dire che se deve fare, uscite, prendete posizione, voi siete il partito che ha di più lottato contro la corruzione, di sì, lo tempo, quindi, carissimi, nessuno potrà accusarvi di volere la lira per ritornare all'Italia corrotta, voi avete fatto della lotta contro un certo tipo di regime, la vostra bandiera, ma sì, moce, pensiamo, va bene, nel frattempo perdete le elezioni, poi tornate, infatti hanno perso le elezioni e sono tornati. In questo Matteo sicuramente è stato più intelligente perché a parità di non aver voluto il Fiscal Compact e a parità di, diciamo, messaggi di un certo tipo, dati all'elettorato, messaggi che in parte condivido e adesso vi dico quali sono, perlomeno ha preso posizione. Dopodiché è chiaro che sul no non si può costruire una piattaforma politica e soprattutto sul no non si rilancia un paese. Ci sono tanti problemi e quindi bisogna un attimo ragionarci insieme. Allora, io a questo punto avrò bisogno io di qualche calcio. Vorrei saltare, diciamo, intanto vorrei farvi capire una cosa che mi fa molto sorridere, perché che significa federalismo? Allora, ogni tanto mi scrive qualcuno professore, io non sono d'accordo con lei perché io sono un federalista europeo e quindi dovremmo fare un'Europa federale dove c'è un grande Stato, i trasferimenti, il budget. Quindi in Europa il federalismo significa che un bavarese deve pagare per un calabrese perché siccome noi adesso siamo sdraiati ci vorrebbe una solidarietà europea che trasferisse soldi dal nord al sud. Questo significa federalismo, no? E come farlo? Ma in tanti modi, via euro bond con una politica più inflazionistica. Sapete, se c'è una politica più inflazionistica chi ha prestato i soldi, cioè il nord ne rivede di meno indietro perché praticamente anche se rivede gli stessi mille euro sono mille euro che costano di meno. Quindi capite in che senso l'inflazione porta uno del nord a pagare per il sud oppure via trasferimenti cioè c'è un bel bilancione federale accentratissimo che prende soldi da una parte e li ridà dall'altra. A me sembra invece che in Italia il federalismo sia quella cosa per cui un bergamasco vuole pagare le tasse a Bergamo per finanziare spese fatte a Bergamo. Allora, dopodiché io vi devo dire la verità non so quale di queste due cose sia giusta se il fra virgolette egoismo del bergamasco o il fra virgolette sogno, visione del federalista europeo però una cosa la so di sicuro ed è che non discuto su chi ha ragione ma la prima proposta cioè far pagare un bavarese per un calabrese sicuramente non è possibile e non è sostenibile politicamente perché i bavaresi già non vogliono pagare per i fratelli sassoni della Germania Est che hanno massacrato con l'annessione l'Ancelus come lo chiama Vladimiro Giacchè in un libro che vi consiglio di comprare edito dalla stessa casa editrice del mio peraltro che è molto bello perché ci fa capire in che modo la moneta può essere uno strumento di conquista uno strumento di conquista in quel caso confessata pianificata deliberata contro la quale si sono opposte delle voci dell'Est che sono state messe a tacere e adesso ci dicono che la Germania è brava perché ha realizzato l'unione in vent'anni e noi non ci siamo riusciti in 150 ma nessuno vi dice che una famiglia dell'Est ancora ha un reddito che in media è il 53% di una famiglia dell'Ovest questo tipo di unità ce l'abbiamo anche in Italia la sappiamo fare anche noi allora ragioniamo un attimo su voi là regia ecco molte vostre battaglie condivisibili e condivise allora io credo che di avervi sentito qualche volta dire che bisogna razionalizzare la pubblica amministrazione è giusto e poi vi faccio anche degli esempi credo che sia giusto pretendere maggiore equità fiscale al di là che la si realizzi col federalismo in altri modi sicuramente è giusto lottare contro la corruzione tutti d'accordo su questo ma e il telecomando attenti alle trappole perché su questi principi qua siamo tutti d'accordo però poi si rischia di declinarli in un modo anche attraverso il contrasto a questo modello di Europa che espone a delle trappole del tipo privato bello pubblico brutto attenti questa è una trappola secondo me tipo stato nemico e anche questa secondo me è una trappola e qui non applaudite avessi detto Letta maggiordomo tutti ad applaudire invece no pensiamo un attimo a questo tipo sud nemico eh ogni nord ha un sud io per esempio vado spesso in Normandia e prendo molto in giro i miei colleghi normanni dicendo insomma voi arrivate sempre in ritardo voi norvegesi del sud perché è così allora diciamo che questi sono i messaggi che il potere ha usato a convincere ha usato per convincervi a entrare nell'euro perché con questi messaggi qua il potere vi ha convinto che l'Italia avesse bisogno di regole moralizzatrici che riducessero lo Stato il famoso 3% del bilancio pubblico che riducessero la corruzione le regole europee no allora stiamoci un attimo attenti perché c'è del vero in questo ma bisogna stare attenti a come lo si usa il vincolo esterno purificatore che ci avrebbe purificato e non ci ha tanto purificato vedete in questo momento in Europa si sta applicando il sano principio del divide e timpera cioè alla grande finanza internazionale serve che le piccole e medie imprese vedano lo Stato come un nemico gli serve perché questo favorisce la grande impresa e il progetto europeo è costruito per favorire la grande impresa questo i giuristi lo hanno visto chiaramente fin dalla fine degli anni Ottanta e nel mio libro è spiegato ma in Italia si basa su un modello diverso quello della piccola e media impresa e comunque se mi applaudite sono contento soprattutto se riesco a farmi applaudire con parole un po' complicate per favorire la grande impresa è la penetrazione dei capitali esteri ma non è un caso che da quando noi siamo entrati nel binario europeo non c'è più un supermercato che non sia francese scusate ma come si fa a stupirsi che ci sia il succo di frutta certo c'è il problema dell'allineamento dei prezzi c'è il problema che noi abbiamo ceduto tutta la grande distribuzione all'estero quando? dopo la crisi del 92 e adesso stiamo cedendo altri pezzi d'Italia quando? dopo la crisi attuale e cosa c'è adesso? l'euro che ci doveva difendere dalla crisi nel discorso qualcosa non torna l'euro non ci ha difeso un altro divide timpera i governi centralizzatori e statalisti allora io io credo nel valore dello Stato ma non sono statalista io credo anche nel valore dell'iniziativa privata che possono convivere queste due cose una convivenza difficile ma l'Europa è profondamente statalista e accentatrice che cosa vogliono? vogliono che i vari nord del mondo che in qualche caso come per esempio in Inghilterra sono il sud o anche in Germania il sud e il nord la Baviera è più ricca delle altre regioni vedano i sud come nemici perché in questo modo li mettono uno contro l'altro riducono le loro autonemie e accentrano presso di sé più poteri perché il più Europa all'avere un enorme bilancio europeo gestito non si sa da chi forse da questa commissione di non eletti è un progetto centralizzatore statalista poi un'altra cosa un'altra simpatica applicazione del divide ed impera ora io diciamo così mai mi sarei immaginato con tutto che vabbè Matteo quando lo vedevo in televisione mi stava simpatico ma questo è un fatto mio mai mi sarei immaginato di venire qua nella fossa dei leoni leghisti io ho cominciato a scrivere sul manifesto rivolgendomi alla sinistra sperando che il PD si svegliasse lo ha svegliato un pochino l'altra sera il delfino lì l'ha svegliato Matteo ma si è riaddormettato subito sono due anni che dico al PD con queste regole europee una sinistra si svuota di significato e il problema è l'euro allora un po' Fassina lo ascolta e lo dice gli altri niente l'altro Matteo Renzi ha un consigliere che lo trasfermerà presto da delfino del PD a tonno nella tonnara dell'euro dove verrà massacrato dagli elettori e io non piangerò anche se vorrei io vorrei votare il PD vorrei se l'ho detto a Sandro Gozzi in televisione posso dirlo anche a voi qui fatti miei tanto un voto in più voto in meno a voi che cambia tanto non lo do a nessuno perché in questo momento nessuno mi rappresenta in Italia che gioco sta facendo il PD un gioco pericolosissimo perché pur di difendere l'euro che lui ci ha dato perché ne ha rivendicato la paternità Bersani diceva noi siamo quelli dell'euro e io sul mio blog dicevo questo è morto politicamente si intende perché come vi dicevo prima non auspico nessun processo politico auspico un processo democratico per cui chi ha sbagliato vada a casa senza neanche che uno si interroga sul perché ha sbagliato se è stato pagato per farlo se l'ha fatto in buona fede la categoria della buona fede interessa lui che non ha bisogno di noi per sapere se noi siamo in buona fede e gli storici punto a un economista non deve interessare può interessare un magistrato ma tanto su questo non ci sarà mai un processo scordatevelo anche se nel codice pinale esistono dei delitti contro gli interessi economici del paese ma la magistratura indipendente rinuncerà indipendentemente a prenderne atto e di questo siamo assolutamente certi la cosa disastrosa lo dico avendo diciamo così in famiglia anche una toga rossa quindi conosco l'argomento toga rossa camicia verde sono una famiglia assolutamente trasversale come quella che Flaiano descrive padre monarchico madre cattolica figlio comunista eccetera eccetera pronti questa è la nostra flessibilità la flessibilità del nostro modello di impresa è la flessibilità del nostro modello di famiglia il PD in questo momento dice l'euro è buono perché ve l'ho dato io che sono buono perché io sono di sinistra quindi sono progressista quindi sono buono quindi sono colto quindi amo i bianchi gialli rossi neri mi dimentico ogni tanto di amare gli italiani ma questa è una piccola dimenticanza prendetevi prendetevi l'euro Matteo Matteo tu mi stai cronometrando perché tu lo sai che io posso andare vado allora non mi preoccupo non mi preoccupo allora gli elettori vanno dal PD gli dicono scusa PD c'è qualcosa che non va e il PD continua come l'altra sera abbiamo visto una plastica rappresentazione nel dialogo fra l'onorevole Cooper e l'onorevole Salvini ma no va tutto bene va tutto bene non ti preoccupare scusa PD guarda che la gente si sta ammazzando no ma va bene l'euro è santo l'euro è buono guarda PD hai preso una legnata alle elezioni beh effettivamente un problema c'è la colpa è della Germania che fa troppa austerità l'euro è buono ma la colpa è della Merkel questa è la linea di quelli che si dicono europeisti mettere gli italiani contro la Germania attribuendole la colpa di un fallimento che è il fallimento di due generazioni di politici italiani di sinistra e di destra questo è l'europeismo e non dire che l'euro progetto ritenuto economicamente irrazionale dagli economisti da 40 da 50 anni va rimosso questo è l'europeismo in Italia capito? in che paese viviamo? ecco e è anche colpa nostra oggettivamente allora attenzione attenzione a questi falsi messaggi attenzione a chi ci vuole dividere per comandarci non ci cascate questa ve la stampo e ve la mando a casa ok? non ci cascate il ripristolo della flessibilità è uno strumento di solidarietà deve essere proposto e vissuto come uno strumento di solidarietà tra i popoli europei perché l'euro è un errore tecnico imposto dalla politica secondo le logiche che ci ha detto Antonio secondo le logiche che ci ha ricordato Matteo e Claudio ma lo suo smantellamento deve essere un gesto della politica non è un fatto tecnico deve essere un gesto politico gestito con un grande senso di solidarietà e di collaborazione perché ci saranno dei costi e questi costi vanno divisi vanno divisi divisi fra paesi e vanno divisi fra classi sociali e bisogna capire quali sono e bisogna capire che si sostengono dei costi per uscire da un vicolo cieco e quindi per poi andare avanti allora questo questo già ve l'ho detto prima che è una roba vecchia vi ricordo che io ma prima in realtà Claudio poi io poi Antonio abbiamo aderito a questo manifesto di solidarietà europea un manifesto assolutamente trasversale che comprende economisti marxisti ex presidenti di confindustria vice governatori di banche centrali ex commissari europei di tutto che ritengono che una uscita solidale uno smantellamento solidale dell'euro possa passare e debba passare principalmente per l'abbandono della moneta unica da parte della Germania ci hanno preso per pazzi all'inizio ci hanno ovviamente ampiamente boicottato sui media italiani senza tenere presente un trascurabilissimo dettaglio che la stessa cosa era stata detta nel 2010 da uno dei passaggi come dicono a Roma Joseph Stiglitz il quale trovandosi a passare per Soccolmo ha ritirato un Nobel per l'economia e poi se ne è tornato a insegnare sai è il Stiglitz Stiglitz nel 2010 aveva detto o la Germania esce dall'euro o i paesi del sud saranno stritolati dall'austerità adesso io purtroppo non ho il computer sotto perché vi vorrei far vedere che è esattamente successo questo ma voi lo vedete basta aprire il giornale non c'è bisogno di vedere i dati quindi questa proposta riteniamo che sia una proposta sulla quale forse anche un partito politico italiano dovrebbe cominciare a fare una riflessione perché è una proposta costruttiva che ha dietro un bagaglio di come dire un retroterra scientifico e che comincia ad essere rappresentata siamo ormai una quindicina ventina di economisti che provengono da una decina di paesi europei dentro e fuori l'eurozona fateci un pensiero informazioni per informazioni sul mio sito allora ideologia e realtà rapidamente due o tre ore prima quando volete che io smetta uscite dalla sala vado? ideologia e realtà cosa ci dice l'ideologia? diciamo oggi voglio essere generoso vi voglio spiegare il capitalismo che a me piace così poi capiamo perché siamo in crisi perché l'euro è un pezzo di questa storia però quando ne saremo usciti dovremo anche occuparci di altri pezzi di questa storia perché l'ideologia ci dice fondamentalmente che dobbiamo essere sempre più produttivi e vabbè detto così suona bene chi vuole essere improduttivo? come dobbiamo essere non dobbiamo essere corrotti certo chi vuole essere corrotto? come dire vuoi essere cornuto? no magari no insomma preferisco di no o comunque non saperlo ecco comunque scusa ecco scusa amore non volevo ecco dobbiamo essere sempre più competitivi e quindi comprimere i costi in particolare il costo del lavoro e poi ci dice anche che dobbiamo sempre limitare l'intervento pubblico perché lo Stato insomma fa sempre tanti danni e vabbè vi faccio vedere una cosa come va il mondo adesso alcuni di voi saranno allergici ai dati è sicuro perché altrimenti non saremmo nell'euro alcuni di voi saranno allergici ai grafici e va bene così però si capisce che qui c'è una cosa che va molto in fretta è una cosa che sta ferma perfetto si capisce che qui era successo già era andata e questo è benissimo la cosa che per due volte nella storia recente dell'umanità è andata molto in fretta è la produttività ed è successo prima del 29 e prima di questa crisi la cosa che per due volte e quindi ah che figata eravamo più produttivi fico dai ganso si produce tanto che bello la cosa che per due volte nella storia dell'umanità è rimasta un pochino indietro è il potere d'acquisto dei lavoratori i salari reali dai ficata abbiamo compresso il costo del lavoro bello siamo più competitivi bello ma allora perché dopo c'è la crisi vi faccio vedere un'altra cosa questo qua lasciate perdere il grafico verde che riguarda persone con il colore della pelle diverso dal nostro cioè economie emergenti poi insomma adesso io anche essendo un fiorentino romano forse qua non sono nel vostro gruppo etnico ma guardate solo la linea rossa per due volte quando la produttività è andata crescendo è andato crescendo anche il debito in rosso prima qui poi è risceso dopo la seconda guerra mondiale poi qui è strano? domandina secondo me non è strano e perché non è strano? vedi la realtà ci dice che le crisi epocali 29 e 2008 seguono il periodo in cui la produttività aumenta a stecca perché ma negli anni immaginate la Ford T catena di montaggio poi immaginate il computer negli anni 80 i salari sono stati contenuti e guarda un po' lo Stato ha ceduto il passo al mercato perché è indubbio che negli ultimi anni lo Stato abbia ceduto il passo al mercato nel senso che liberalizzazione dei mercati capitali contro riforma bancaria per cui si è introdotto il modello di banca universale per cui tutte le banche possono fare tutto regole di pareggio del bilancio per cui 3% Stato fermati dove vai stai buono non spendere quindi è indubbio che questo è successo però che poi ci sia una crisi non è strano perché il capitalismo funziona purtroppissimo in questo modo qua il capitalismo funziona se qualcuno compra e se qui c'è un imprenditore uno c'è perché lo conosco non ve lo indico perché non sia mai lui vuole mantenere l'incognito se c'è un imprenditore lo sa che se lui produce le cose per darsele sui denti spende solo tanto di dentista ma non guadagna nulla deve produrre le cose per venderle allora c'è un problema fondamentale che qua va capito che ci serve anche a capire perché la Germania se mi permettete un piccolo francesismo è riuscita a fotterci il verbo francese ovviamente se si produce molto ma dall'altra parte diciamo si guadagna poco perché si comprimono i salari ci sono tre possibilità che o finanzi l'acquisto dei beni con debito pubblico cioè la famosa spesa pubblica improduttiva ci deve mettere una pezza e questo è successo in Italia negli anni 80 o finanzi con debito privato e questo è successo in Italia negli ultimi anni perché abbiamo cominciato a vedere da quando siamo nell'euro questa meravigliosa cosa del compra in televisore oggi pagalo fra sei mesi con 47 rate quello è fare un debito è fare un debito privato è vivere effettivamente al di sopra dei propri mezzi quando è il privato che lo fa quando è lo Stato dipende perché lo Stato comunque ha una capacità di gestire le proprie passività che è diversa da quella del privato e perché è successo con l'euro perché l'euro ha facilitato la circolazione dei capitali noi eravamo risparmiatori ma ci siamo trovati a disporre di capitali a buon mercato perché l'euro permette alla moneta di circolare attraverso l'Europa e chi vuole far comprare i propri beni semplicemente ha molta più facilità di prestarla a quei paesi che essendo rimasti indietro hanno bisogno di elevare il proprio standard di vita e questo è successo ecco perché siamo passati dalla lancia tema alle Audi e quindi la terza possibilità è quella di campare col debito altrui come fa la Germania dal 2000 avanti Cristo e lo farà sempre perché questa è la sua vocazione ha detto torniamo alla lira è un nemico la rigidità del cambio vedete noi riflettiamo sempre sul fatto che altera la competitività e questo nessuno l'ha spiegato meglio di Claudio e di Antonio io voglio aggiungere un altro pezzo facilita l'indebitamento perché quando dicono che figata il tasso di interesse è diminuito questo significa solo che per noi del sud prendere debito accollarci dei debiti costava meno di quanto sarebbe dovuto costare cioè il parallelo di avere una moneta troppo forte e che hai un tasso di interesse troppo debole e quindi ti indebiti molto più facilmente e i beni che compri sono i beni degli altri perché la tua moneta è troppo forte e così il cerchio si chiude abbiamo la quadratura del cerchio quindi vedete che bella cosa in tre persone siamo riusciti a farvi vedere tutto il giro allora alla base però c'è un sistema che è squilibrato nell'economia reale cioè c'è un sistema che è squilibrato perché cresce la produttività ma i salari non gli vanno dietro allora ragioniamo su un po' di queste cosette io me ne sono messe alcune poi insomma a un certo punto mi fermerò e se qualche curiosità vi rimane me la dite voi fatemi vedere quanto mi sono allargato io mi espando molto prendo dieci minuti e poi mi fermo ho chiesto quaranta più o meno allora lo Stato è sempre un nemico il debito è frutto della corruzione il debito pubblico ha fatto comodo a qualcuno perché scusate cerchiamo di capirci in un paese chi comanda chi è ricco e potente o chi è povero magari onesto e debole secondo me comanda chi è ricco e potente ci vogliamo chiedere perché nonostante tutti i governi si siano sempre lamentati ah il debito pubblico il debito pubblico questo debito pubblico cresceva ma forse avrà fatto comodo a qualcuno oppure dobbiamo pensare che i nostri politici corrotti quanto vi pare Roma ladrona sono d'accordo con voi anche a me in Roma non piace tantissimo anche se ci sono delle persone meravigliose però io preferisco vivere in città più piccole questi sono fatti miei non vi interessano ma mica sono arrivati da Plutone a fare gli interessi dei plutoniani erano italiani che facevano interesse di qualche italiano mentre il debito pubblico italiano cresceva no? eh allora di chi facevano gli interessi? beh ve l'ho detto di un'impresa una classe imprenditoriale secondo me non piccola e media ma soprattutto grande che voleva comprimere i salari e voleva vendere i propri beni e questo va un attimo focalizzato però perché alla base delle crisi c'è un conflitto e il conflitto in economia ha spesso un conflitto su come ci si divide la torta e chi vince la battaglia in economia perde sempre la guerra questo è il problema e dopo bisogna tornare al buonsenso è un patto sociale che consenta di crescere equilibratamente allora ragioniamo un attimo sul fatto se lo Stato è sempre un nemico anche la crisi ha avuto dei lati positivi cioè non c'è nulla in economia questa è un'altra grande perla o pirla di saggezza cioè non esiste una cosa economica che sia intrinsecamente buona o cattiva la crisi ci ha obbligato a razionalizzare qui vi parlo di Einstein e del Bidello io vengo da un'amministrazione pubblica e non ho mai avuto il bene di lavorare in un dipartimento universitario nel quale non ci fosse almeno una persona che non faceva un beniamato accidente di nulla non mi riferisco ai miei colleghi ma al personale amministrativo quando io stavo al dottorato a Roma avevamo una simpatica persona che ogni tanto si metteva nei corridoi a cantare le litanie poi quella l'hanno presa l'hanno anche messa da un'altra parte perché stava meglio lì adesso sono in un dipartimento che è assolutamente efficiente è stato razionalizzato eccetera eccetera come? beh ora cominciano a diventare pesante la situazione perché la razionalizzazione lo sta cominciando a significare accentramento di tutto presso il rettorato ti serve una cosa devi perdere un sacco di tempo te come docente per diciamo ci stanno cominciando a togliere soldi per la ricerca allora lo Stato un ruolo comunque ce l'ha allora voi se qua c'è un imprenditore qualcuno di voi nel 1905 voi avreste finanziato una persona che fosse venuta a dirvi scusa io devo studiare la curvatura della luce io penso che voi non lo avreste fatto no? e se lui fosse arrivato nel 1919 vi avessi detto guarda ma io guardo ho ragione la mia cosa è un progetto interessante ti posso dire che sono riuscito a spiegare la precessione del perielio di mercurio con questo voi avessi detto ma che cazzo vuoi vuoi soldi per questa roba qua eppure eppure sulla base di questa ricerca è stata inventata la cellula fotoelettrica che è quella cosa che quando andate al bagno vi permette di lavarvi le mani senza toccare il rubinetto che eredita i germi di infinite generazioni di precedenti persone andate al bagno perché la cellula fotoelettrica deriva dagli studi di Einstein che si occupava di cose che nessun imprenditore avrebbe mai finanziato e per questo anche che il privato che è efficiente io ho studiato l'economia cinese ho visto in che modo il passaggio al mercato ha permesso a quel popolo di dimezzare per due volte in trent'anni il tasso di povertà lo sapete che se la povertà a livello mondiale è diminuita è solo per merito dello sviluppo della Cina e della sua apertura al mercato quindi quando uno studia quello non può non riflettere su alcune cose ma lo Stato ci vuole perché altrimenti noi staremmo ancora lì a girare il rubinetto che magari è stato toccato da una persona che chissà che cosa ha fatto con le sue manine sante chiaro il concetto? quindi non si sa ecco questo è il problema cioè il privato giustamente guarda il suo profitto e fa bene a farlo però ci vuole anche uno sguardo più ampio allora e quindi come dire io sono un lavoratore pubblico improduttivo che ho prodotto ho prodotto un libro nel quale ho dimostrato che ci stanno fregando mi avreste pagato cinque anni fa per scrivere questo libro beh pensate che il mio editore non mi ha neanche pagato un anno dopo per cui voglio dire cioè voglio dire siamo siamo non sto dicendo un segreto e quindi ovviamente a proposito ricordatevi che se lo spettacolo vi ha divertito c'è un sito che si chiama asimetrie.org presso il quale potreste contribuire a sostenere l'attività di ricerca mia e di Claudio piccolo spot pubblicitario solo lo Stato può imporre delle regole che disciplinano gli eccessi del mercato lo Stato se lo considerate come un nemico vi meritate la banca universale vi meritate i bond argentini vi meritate tutta sta roba chiedete uno Stato buono che agisca che disciplini il mercato appresso il debito è frutto della corruzione in blu il debito in rosso l'indicatore di corruzione elaborato dalla banca mondiale dal 99 al 2007 non vi fate fregare il sistema europeo è intrinsecamente corruttogeno perché? perché applica il principio della sussidiarietà privatizza tutti i bei servizi pubblici che poi naturalmente quando l'acqua diventa privata a chi se ne occupa ve o li ha con l'accento sulla A perché c'è francese c'è pa italiano chiaro il concetto? ecco favorisce la penetrazione dei capitali esteri la corruzione da cosa deriva? ma è semplice c'è una pletora una miriade di piccole società fintamente private semi pubbliche ognuna col suo consiglio di amministrazione questo è questo è il modello europeo l'economia sociale di mercato fortemente competitiva basata sul principio della sussidiarietà vi piace? a me no perché i risultati sono questi e vedete che fra debito e corruzione da quando siamo entrati nell'Europa c'è una correlazione inversa perché il problema non è lì poi non credete alle balle la colpa è del debito pubblico allora da quando siamo negli ultimi anni prima della crisi il debito pubblico è diminuito questo lo avete visto anche a servizio pubblico è aumentato il debito privato perché? ve l'ho spiegato prima perché ci siamo progressivamente indebitati per lo più con l'estero per acquistare prodotti esteri ve lo dice anche Vitor Constanzio il vice governatore della BCE che questa è una crisi di finanza privata il che significa che il mercato ha fallito almeno in questo caso visibilmente allora non bisogna essere ideologicamente contro il mercato bisogna essere pragmaticamente a favore di una regolamentazione del mercato e quando ci si libera dall'euro e quindi si riequilibrano certi squilibri se si vuole che il sistema cresca comunque in modo ordinato bisogna porsi questo problema bisogna chiedersi quanta mobilità dei capitali vogliamo vogliamo separare le banche che fanno intermediazione del credito da quelle che fanno attività di investimento vogliamo ecco queste sono le domande che ci dobbiamo porre e parliamo degli investimenti fissi vogliamo come il dottor Giannini su Repubblica l'altro giorno dire che ci dobbiamo liberare dal tabù dell'italianità e quindi che dobbiamo svendere all'estero le nostre aziende oppure vogliamo capire che molto spesso questa è un'operazione che aritmeticamente non ci conviene e quindi che possiamo cercare di mantenere in Italia ciò che è nostro vogliamo questo e parliamo anche di un'altra cosa parliamo parliamo anche di un'altra cosa perché i capitali non solo entrano per prendere ciò che è nostro ma escono anche con grande facilità caro Matteo domani ti taglio lo stipendio di 2000 euro e tu dici io ti faccio un'avvertenza e io delocalizzo e lo posso fare perché c'è mobilità dei capitali in questo modo la Germania è riuscita a abbassare il suo costo del lavoro perché si è aperta a Est e perché si è voluta aprire così tanto a Est con così tanta fretta mettendo in difficoltà tutti gli altri paesi dell'Unione Europea che avevano bisogno di fondi strutturali perché aveva bisogno di un bacino di mano d'opera a buon mercato presso il quale delocalizzare per fottere i suoi lavoratori e per fottere anche noi allora capite cosa capite cosa dico quando dico che c'è un legame fra mobilità dei capitali e compressione del potere d'acquisto dei lavoratori è questo e poi il lavoratore è costretto però a indebitarsi per andare avanti ti indebiti perché comunque ti vengono proposti dei modelli di consumo vuoi avere il flat screen non ti rassegna ad essere diventato più povero non è facile diventare più poveri non è facile e non è colpa dei cinesi se siano più poveri e perdonatemi adesso forse susciterò le ire di qualcuno qui presente recentemente forse non è colpa neanche dei migrati clandestini adesso l'onorevole Borghezio mi aggredisce però insomma lo dico con simpatia io vado sempre a parlare di corde in casa dell'impiccato è il mio secondo lavoro il terzo lavoro esatto e questo comincio a pensarlo anch'io e questo comincio a pensarlo anch'io perché vedete una segmentazione del mercato del lavoro favorisce sempre certi interessi in Germania ne hanno almeno due hanno la segmentazione fra ovest e est e poi ce n'hanno anche un'altra della quale magari parliamo però non credete alle balle cioè noi abbiamo uno stato da riformare vi ho fatto tanti esempi ma non siamo il paese più spendacione dell'Unione Europea questo è il rapporto medio fra spesa pubblica e PIL in Italia io non so se voi li conoscete questi dati perché certe volte a sentire i politici sembrerebbe di no ma non è una critica generica perché io detesto i ragionamenti generici i baroni i giornalisti i politici ognuno è una persona ognuno ha un suo percorso e questo è il percorso dei dati il percorso dei dati ci dice che i paesi che hanno la spesa più grande in Europa in media dal 99 al 2012 ci sono stati Francia Finlandia Belgio e Austria fino a prova contraria quattro paesi virtuosi poi veniamo noi vicino alla media segue Germania Olanda Grecia Portogallo Spagna Lussemburgo Irlanda guarda caso Grecia Portogallo Spagna Irlanda sono agli ultimi cinque posti cioè sono i paesi che spendono di meno ma è così se poi Vitor Constanzio vicepresidente della BCE viene a dirvi che non è un problema di finanza pubblica ma lo saprà lui che è compagno di merende di Mario Draghi del pilota automatico lo saprà ben lui quello che è successo è successo che non dobbiamo prenderci con lo Stato perché ha speso troppo dobbiamo prendercela perché ha speso male eventualmente ma in questo momento in cui l'economia è in sofferenza noi non possiamo continuare a curarla col salasso come se fossimo dei medici del 600 adesso esistono altre terapie e non possiamo assistere da economista accademico come sono io allo spettacolo penoso di Olivier Blanchard del fondo monetario che arriva e dice ops ci siamo accorti che il moltiplicatore keynesiano esiste fischia io l'ho studiato sull'Hackley un libro stampato nel 1964 e tu adesso vieni 39 anni dopo a dirmi che ti sei accorto che esiste ma io lo sapevo da capito cioè state attenti all'uso ideologico che viene fatto di queste informazioni vabbè sentite io forse potrei fermarmi anche qui perché vi ho preso fin troppo tempo e veramente ho più voglia di sentire le vostre domande che le mie risposte tant'è vero che forse non ve le do o me le pagate a parte però il messaggio vorrei però trovare una sintesi e la sintesi è questa riferita al perché siamo qui allora intanto bisogna ringraziare Matteo per la sua intelligenza tattica e per essersi aperto al dialogo Matteo Matteo è stato folgorato sulla via di Damasco da Claudio che dobbiamo ringraziare dopo dopo di che ha voluto leggere il mio libro e mi ha invitato e siamo qui e ci ha invitato e questa è stata una cosa importante perché mentre per il mio percorso politico io mai mi sarei aspettato con tutta la simpatia che ho per gli italiani per gli europei io insegno in Francia parlo inglese tedesco scrivo in inglese parlo il tedesco ho provato fallendo miseramente a delocalizzare la mia attività riproduttiva con una tedesca e invece lui ci è riuscito io no salutiamo anche Gabi questo è stato un fallimento io sto bene in Europa allora ringraziamo Matteo per aver capito una cosa fondamentale che le attuali regole europee stanno distruggendo l'Europa che amiamo e alla quale questa pianura è sempre stata aperta un po' perché ne è stata il campo di battaglia ma anche perché è stato il crocevia di tanti scambi è stato un motore non solo economico ma culturale importantissimo d'accordo? io vabbè non vi parlo del mio altro lavoro che è quello di musicista dove vi potrei parlare dei musicisti padani e del loro impatto sulla cultura europea quindi ringraziamo Matteo per questo ricordiamoci che è importante dare un messaggio deciso basta euro no euro è importante averlo detto tutti quelli che mi si sono avvicinati o si sono avvicinati a Claudio e potremmo raccontare tanti aneddoti ma ce li raccontiamo fra noi ci ridiamo sopra dicendo allora che si fa beh devi dire questo beh però sai io sono un politico devo fare così fai come ti pare sono tutti morti galleggiano lungo il Ticino e poi lungo il Po meno male ma meno male vedi meno male non so se meno male perché ripeto il terzo punto che voglio ricordare è che quest'Italia dovremmo comunque ricostruirla tutti insieme ben venga chi ha avuto il coraggio di dire una parola speriamo che sia premiato dall'elettorato ma deve avere il coraggio di dare anche e la capacità di dare un messaggio inclusivo e propositivo perché voi non lo so quanto potete pesare ma il 55% non lo avrete mai neanche se fate un salvinellum che attribuisce a chi porta la camicia verde un premio di maggioranza del 47% in più cioè chiaro il concetto quindi bisogna che in qualche modo vi apriate a questo ecco e vi avrei voluto parlare anche di questo vi avrei voluto parlare anche di questo perché questo è un tema molto importante però veramente chiudo magari ce lo risolviamo per un altro incontro perché quando si parla di separare l'Italia dall'Europa naturalmente poi subentra il discorso ma allora perché non dividiamo l'Italia in due e io su questo qualche idea ce l'ho ve ne dico una sola intanto che è questa scusatemi e qui chiudo veramente fatemi chiudere voi vi rendete conto di cosa sta succedendo in Europa adesso in Europa ci dicono che se vogliamo stare dentro e per salvare l'euro i greci si devono tagliare il salario del 50% e lo hanno fatto gli spagnoli del 30% e lo hanno fatto noi del 10-15% e lo stiamo facendo come si chiama questa cosa come si chiamava questa cosa in Italia fino al 72 gabbie salariali esatto allora la sinistra che io vorrei tornare a votare adesso non me ne voglia l'onorevole Borghezio io sono de sinistra scusi onorevole la sinistra che io vorrei tornare a votare ha tolto le gabbie salariali dall'Italia e ce le ha imposte a tutti gli italiani difendendo il progetto eurista allora secondo me siccome siamo in un nuovo dopoguerra forse dovremmo anche cominciare a riflettere su un nuovo modello di flessibilità interna se vogliamo andare avanti piuttosto che affrontare una secessione che secondo me è più costosa in questo momento e della quale poi dopo si può anche parlare perché io non capisco perché in Europa ci debba essere il Lussemburgo che è piccolo quanto non lo so un quarto della Lombardia e poi non ci possano essere due Italia quando per mille anni ci sono sempre state questo io non lo capisco non lo capisco non lo capisco da Fiorentino non lo capisco da Fiorentino per il quale il mondo si divide in due Firenze e i barbari fra i quali voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti